Dici anni, però ok! Evit, guarda un po' che panorama! Eh, ho detto c'è la Burning Blade, cazzo! Intanto ti ho mandato uno screenshot del video per vedere dove sono pezzati i cannoni dietro. Vabbè, interveniamo così se affondiamo un buon motivo per aprire Galeone. Io volevo venire all'isola solo per cercare una missione di Atena in bottiglia. Ma stanno proprio... Eh, Glessidra. Vabbè, io ci vado. Non mi sembrano lontani a nuoto. Ah, ci vai a nuoto proprio. Eh sì, andiamo qui a nuoto. Quella fa loca, cazzo! Non ci capisco! Ti faccio che li riusciamo ad affondare entrambi? Eh, sì sì. Sarebbe la giocata del secolo quella che su YouTube farebbe... L'hai mingiata del secolo. Eh, mi fai esplodere il canale! Ma... Oh, c'è uno scheletro quel barile, tu! Oh, cazzo! Ma mi sto parlando con gli altri. Ehm... Ma è normale che mi ha fatto un altro aggiornamento? Ma sì... Ma sì... Ma che è tutto normale... Sono io per sindacare! Ma c'hai anche ragione tu! Che cazzo di domande mi faccio? Cioè, tanto... La reina... Loro fanno... Come cazzo gli gira... È un reina. Sto andando verso di domande. Io sto arrivando col barile. Bravo! Io cerco di andare a farlo! Non so se ce la farò, però... Dipende tutto se l'altra nave rimane in periodo. L'altra è ultra in difficoltà, quindi... Chi sa che affondo. Eh, cioè... Secondo me è già affondata addirittura. Comunque mio fratello ha detto che come prima cosa appena inizia a giocare a... Softies vuole fare le... Tall Tales di... Di Monkey Island. E' un bel inizio! Ma perché? Cioè... Ma no... Uno che gioca a 7 di solito direbbe quelle di... Da Disney, non ne so. Beh, anche Monkey Island è tecnicamente Disney. Va bene, se è zoppiato i garaii. Sì, sì. Sì, però... C'è... Oh, oh! Fede! C'è un ribaltamento nel fronte. Eh, cazzo, io spero di arrivare. Mi sa che mi mangeranno gli squali prima. No, dimmi che ti aiuto con la pistola, se... Sì, sì. Eh, guarda... Io sono dietro di te, Edo. Dimmi se vedi i squali e mi giui. Basta chiedermi i soldi. Mi ha preso a me uno squalo. Te li sto... Eh, ho uno squalo. Ho uno squalo in culo, Edo. Sei troppo lontano, lo vedo. No, merda. Ho mancato. Mi sta mordendo il culo. Sto mangiando. Ma da così lontano non mi fa il... Secondo me lo stai mancando di brutto. Sì, ma non mi... Eh, perché proprio non mi fa il... Merda. Così muoio. Devo cercare di uccidere il mio. Ok, l'ho ucciso. La domanda è su quale cazzo di nave vado. Su quella che mi vieni incontro. Controlla che non sei la nostra. Non sono Manuel. Io salgo... Vomitando perché ho mangiato la carne cruda. Così gli spermo di incendio. Sì, io me la volevo prendere con gli altri, però... Eh, questo... Te li ancora? Ok. Ancorati... No, no! Sono da Brigg! No, no! Sono Fendly! Sono da Brigg! Sono da Brigg! I bombardati! Ah, ti affondano, forse. Ho ucciso uno. Stanno in cazzo di neri. Sono affondati. Sorry, ragazzi. Just... Just... Sono da Brigg! Sono da Brigg! Just Fun! Mi ha detto son of a bitch due volte. Eh, che inizio ti saranno potenti! Ah, io sono in un bello schermo nero, comunque. E adesso... Tu sei sopravvissuto. Un'altra! Ma dov'è il nostro terzo componente? E c'è... Ah! Sta pilotando, giustamente. Stai pronto, Ludo, ad affondare questi altri bastardi? Ludo? Ci stiamo... Ci stiamo andando in troppo dritti. Sì, adesso ti sento. Eh... Ci stiamo per... Per inculare. Vabbè. 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 Io sono in schermo nero. Sento tutto, mano. Ok, ci sono. Cannone di sinistra. Se vogliamo provare a farli craccare addosso, va. Vabbè. Vabbè. Rirato sull'albero. Sto riporando l'albero. Ci sono in mare. Guardo la scaletta. L'albero è riparato? Sì. Non è vero. Sto ripetendo le altre. Eh, sai dove uno? È ricaduto. Cazzo. Eh, sai dove un altro? Eh, sono saliti due. Ancorati. Sono saliti. No, no. I'm from the brig. No, no. No, no, no. I'm friendly. I'm from the brig. Eh, no. I'm not... WTF? Eh, no, no. I'm not in here. Eh, I'm not in here. Eh, bombardati. Eh, bombardati. Con, no force. Eh.